L'artrite psoriaca è una malattia infiammatoria cronica che colpisce le articolazioni. La maggior parte delle persone sviluppa prima la psoriasi e poi l'artrite, ma può anche avvenire il contrario. Si manifesta con dolore, gonfiore e rigidità delle articolazioni. Ma per saperne di più ci colleghiamo con TV Medica e con la giornalista Alie Sabelli che ha in presenza il professor Paolo Moscato. A te Alessia per la tua intervista. Grazie della linea Silvana, buongiorno a tutti. Oggi sono in compagnia del dottore Paolo Moscato, reumatologo dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Oruggi d'Aragona di Salerno. Buongiorno, ringrazio per l'invito Canale 9 e la dottoressa Silvana Di Martino per il gradito invito. Con lei oggi parleremo di una patologia purtroppo cronica dell'artrite psoriasica. Prima però di entrare nell'argomento dobbiamo sicuramente dire che la psoriasi è una patologia, anche questa molto importante, che colpisce il 2-5% della popolazione, il rapporto femmine-maschi è di uno ad uno e chi soffre di psoriasi può andare incontro all'artrite psoriasica. Ecco, ma dottore Moscato, che cos'è esattamente questa patologia? Per quanto riguarda l'artrite psoriasica, noi dovremmo coniare un termine più adatto, cioè non artrite psoriasica, ma malattia psoriasica. È una patologia cronica, autoimmune, che può colpire la pelle, può colpire le articolazioni, può colpire anche l'occhio e anche l'intestino. Quando ci troviamo di fronte a un paziente che ha la psoriasi cutanea, spesso può, tra il 6 e il 40% dei casi, può andare incontro anche ad un interessamento articolare. Dottore, ma si manifesta anche con dolore? Certamente, con dolori che possono colpire più domini, cioè possono colpire le articolazioni e a differenza dell'artrite reumatoide, in cui queste tumefazioni sono simmetriche, per esempio i due polsi, le due ginocchia, le due caviglie, questa malattia si manifesta in modo asimmetrico. Possiamo avere un interessamento del polso o della caviglia dell'altro, del soma di sinistra e quindi il polso del soma di destra. Qual è l'incidenza di questa patologia? Abbiamo tra i 3 10 casi per 100.000 abitanti. Come prevalenza è abbastanza alta, diciamo andiamo tra lo 0,4 e l'1% della popolazione. È una malattia che va ricercata, perché ci sono molti casi paucisintomatici. Basti pensare a una dattilite, il cosiddetto dito al salsicciotto, un dito gonfio, tumefatto, oppure una tumefazione di una caviglia, di un polso che spesso passa inosservate, però nel tempo questo può peggiorare, quindi dare grosse difficoltà nella qualità della vita del paziente che ne ha affetto. Un dito gonfio può cambiare anche di colore? No, diventa un po' rossiccio, gonfio, perché qui viene colpita la guaina del tendine e quando abbiamo questo dubbio noi ci serviamo anche dei nostri colleghi ecografisti che possono aiutarci nella diagnosi precoce di queste malattie, che è importante perché sono malattie che colpiscono sì le articolazioni, ma che sono sistemiche, come tutte le malattie reumatiche, quindi possono interessare anche altri organi. Quindi, dottore Moscato, l'ecografia risulta utile per questa patologia? L'ecografia sì, nelle forme a livello periferico ci aiutano in un paziente che ha già una psoriasi anche minima, noi dobbiamo sempre ricercarla, l'apsoriasi a livello cutaneo, quindi nelle forme iniziali. Noi con l'ecografia riusciamo veramente a fare una diagnosi precoce e mettere in campo già i presidi terapeutici che ci permettono di far sì che la patologia poi non venga lasciata libera di agire e quindi dare dei danni maggiori nel determinato individuo. Dottore Moscato, essendo una patologia cronica sicuramente non ci si può guarire, ma può essere tenuta a bada grazie ai farmaci biologici. Certo, questo ha cambiato un po' la storia naturale di questa malattia. Ricordiamo che l'artrite psoriasica può colpire anche la colonna, può colpire il rachide in toto, non con i classici sindesmofiti della spondilite angilosante, ma con i vecchi ossi un po' più grossolani che vengono chiamati parasindesmofiti, ma possono colpire anche le articolazioni sacroiliache e in questi casi noi dobbiamo mettere in campo immediatamente dei farmaci efficaci come sono i nuovi farmaci biologici che spengono in breve tempo l'evoluzione della malattia ed evitano che si possono avere anche delle deformazioni. Ricordiamo che queste malattie colpiscono le persone giovani e quindi avere anche delle deformazioni articolari, anche piegarsi un po' in avanti perché questi vecchi ossi poi saldano le vertebre tra di loro, ci permette veramente di bloccare all'inizio la patologia ed evitare poi le disabilità. Dunque dottore, il ruolo del reumatologo per questo tipo di patologia è fondamentale? Sì, è fondamentale perché noi andiamo sempre a cercare nei pazienti che hanno delle sintomatologie particolari come la dattilite o delle tendiniti un po' diffuse sull'organismo, dei dolori lombari un po' strani che sono tipiche della lombalgia infiammatoria che peggiora con il riposo e migliora con il movimento e quindi andiamo a ricercare quei segni, quelle indagini che ci possono aiutare nel fare la diagnosi precoce e quindi mettere in campo delle terapie innovative che per fortuna adesso ci sono e che ci permettono poi di spegnere la malattia. Fondamentale è in alcuni casi la correlazione, la collaborazione tra dermatologo e oremotologo. È importante la collaborazione con il dermatologo quando ci sono delle forme diciamo un po' non chiare di psoriasi cutanee, l'aiuto in questi casi del dermatologo è fondamentale per poter fare proprio una diagnosi precoce come ho detto prima e quindi mettere in campo immediatamente le terapie più moderni che per fortuna adesso abbiamo a disposizione. Ringraziamo il dottore Moscato, sicuramente ci vedremo ancora. Restituisco la linea allo studio. Grazie.